da tuna qui una discesa fantastica naturalmente prima abbiamo studiato bene la situazione perché ogni fiume cela le sue insidie chi va in gommone deve sempre indossare un giubbotto di salvataggio i modelli più recenti sono belli pratici in caso di emergenza vi salvano la vita serve una mente lucida meglio quindi se aspettate di arrivare a destinazione prima di stappare una birra spesso si sottovalutano la temperatura dell'acqua e le correnti l'acqua fredda può provocare crampi e difficoltà respiratorie ricordate di mangiare qualcosa servono energie per affrontare una discesa così lunga scrivete i vostri nomi con gli indirizzi e i numeri di telefono sul gommone così se dovesse essere ritrovato vuoto la polizia potrà condurre più facilmente le sue indagini non legate mai i gommoni l'uno all'altro altrimenti non potrete più manovrarli remate con prudenza fate attenzione ai pericoli come i piloni dei ponti altri gommoni o i bagnati dai vieni abbiamo bisogno di te per accendere il fuoco e cuocere la carne grazie a tutti Grazie a tutti.